Hanno scelto la strada del patteggiamento concordato gli ex vertici di Banca Etruria, l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi, che davanti alla Corte d'Appello di Firenze, hanno scelto il rito del patteggiamento per una pena eventuale di tre anni e quattro mesi di reclusione. In primo grado, nel processo con rito abbreviato che si era concluso nel 2019, gli ex vertici erano stati condannati a cinque anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Pur essendo convinti dell'onestà e della correttezza dell'operato dei nostri clienti, commentano i due avvocati difensori, Davirro e Baccaredda, quest'ultimi hanno ritenuto opportuno rinunciare all'appello e concordare con la procura generale di Firenze la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, pur di chiudere una vicenda processuale che si è prolungata ormai da troppi anni. Non si è però ancora arrivati ad una condanna definitiva perché l'udienza è stata aggiornata il 24 novembre, quando sapremo anche delle sorti dell'ex vicepresidente Alfredo Berni e del consigliere di amministrazione Rossano Soldini, condannati in abbreviato Berni a due anni per bancarotta fraudolenta e Soldini ad un anno per bancarotta semplice. I due puntano alla soluzione.